Eretto prima dell'anno 1000, lo splendido castello di Oramala ospitò persone illustri quali Obizio Malaspina e il celebre Federico Barbarossa. Varie testimonianze del posto e visitatori parlano di sentire strane voci, urla e griti riconducibili a una battaglia. Di fatti proprio la famiglia Malaspina ospitò Barbarossa nella Rocca per una notte aiutando l'imperatore a fuggire dall'Italia, era inseguito dalle truppe del carroccio. Le testimonianze del proprietario del castello non furono né uniche, infatti alcune persone del posto a tutt'oggi sentirebbero strane grida e rumore del cozzare delle armi, quali spade, scudi e asce. Si sentirebbe anche appunto il nome di Federico Barbarossa. All'interno del castello ci sarebbero delle presenze, sono state foto e in questo caso anche varie tracce e vupi. Iscriviti al canale e condividi i video agli amici. Attiva le notifiche per essere aggiornato sui nuovi video.